Sicuramente il Covid-19 anche per il settore bike ha creato delle sofferenze. I due mesi che sono stati chiusi i negozi hanno portato delle riduzioni di fatturato a livello globale, soprattutto per i negozi che non erano specializzati ma per i negozi multi sport che all'interno avevano dell'abbigliamento da ciclismo. È vero però anche che i fatturati persi in parte sono stati recuperati, un po' perché il mondo bike sta vivendo una nuova giovinezza perché molti atleti che prima praticavano altri sport, magari al chiuso o sport di squadra, non lo hanno più potuto praticare e quindi si sono affacciati al mondo del ciclismo e dobbiamo essere bravi noi a mantenerli, a farli innamorare del nostro sport e a far sì che diventino degli utilizzatori. Un altro motivo sicuramente perché c'è una voglia di stare all'aria aperta e quindi per quello che riguarda il 2021 siamo fiduciosi, siamo fiduciosi di recuperare il terreno perso quest'anno e anche di aumentare i volumi magari in controtendenza rispetto ad altri settori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!